cosa parliamo oggi del caffè con la panna io adesso non è mattina è molto pomeriggio tardi buonissimo guarda che bello voi ve lo ricordavate un bel caffè con la panna si bene qui a Tenerife chi lo fa il caffè con la panna qui a Tenerife lo chiediamo a chi lo fa adesso mi metto leggermente da una parte eccolo qua ciao ciao saluta i nostri amici italiani che quando vengono qui a Tenerife possono venire al pinguino il caffè con la panna uno dei migliori caffè di Los Cristianos fantastico e il callori se lo prende quando venite ricordate caffè con la panna Los Cristiano Tenerife Pinguino e Pinguino Francesco Gallori Salvatore Sant'Accangelo vi invitano al pinguino a Tenerife benissimo ciao alla prossima puntata ti creda o te viene se